Ancora una volta ciao ragazzi ben ritornati nella serie della failcraft Anche quest'oggi abbiamo all'ordine del giorno un sacco di punti Un sacco di missioni da svolgere ma prima di iniziare c'è qualcosa che vi devo mostrare E ce l'ho proprio alle spalle Tadam Che cosa è successo qua? Le statue si sono spostate di nuovo Ci ricordiamo che nell'ultimo episodio le avevamo lasciate Che erano qua sotto Erano sotto, si erano messe in fila indiana E sembravano appunto dirette verso l'uscita Adesso le abbiamo trovate qua sopra Sembra come che vogliano uscire di casa E io però le lascerei andare per conto loro Le lascerei andare perché non sappiamo dove vogliano andare Ma potrebbero volerci indicare qualcosa di importante Quindi io le lascerei fare nella speranza che non vogliano farci del male o scappare da noi Comunque vi devo dire una serie di cose ragazzi che ci avete suggerito voi nei commenti E vi sono estremamente grato di questi suggerimenti che ci continuate a dare ragazzi Perché ci state aiutando, ci date un sacco di indizi veramente utili Continuate così, qualsiasi cosa vi viene in mente giù nei commenti Potrebbe essere la cosa determinante per la nostra vittoria Alcuni di voi ci hanno detto che come esca per attirare Robrian Potremmo utilizzare il Cracked Disc Il disco rotto di Minecraft Quello che per secondo la leggenda Dovrebbe servire ad attirare proprio Robrian E questo è un ottimo suggerimento Perché potrebbe funzionare Noi non ce l'abbiamo ma potremmo provare a recuperarlo Se non erro i dischi musicali vengono droppati da un creeper Quando esso viene ucciso da uno scheletro Quindi cercheremo di ingegnarci per farlo succedere Poi un'altra cosa ci avete detto di tornare nel land A visitare quella nuvola di gas Ci avete detto di aiutarci con una maschera antigas Ora io non so se possa funzionare contro i fulmini Però sicuramente ci proveremo Ci proveremo anche a fare questa cosa Poi ci avete detto delle altre cose Però ragazzi prima di continuare a parlare Poi mi dite che parlo troppo Vi dico lasciate pollice in su Per supportare la serie della failcraft Abbiamo bisogno di voi Stiamo arrivando alla conclusione Potrebbe essere la nostra vittoria Ad avvicinarsi Quindi mi raccomando ragazzi Sosteneteci finché la serie continua Arriviamo a 15.000 pollici in su Per andare avanti ragazzi Perché? Perché in questo episodio Abbiamo ascoltato il vostro suggerimento E anche quello di Notch Che nello scorso episodio ci ha detto Dovete andare a visitare L'altra parte dell'altro mondo Ed è il... Si parla appunto del paradiso Voi ci avete detto Lion inserite la mod dell'Ether Perché Notch Vi sta dicendo che dovete utilizzarla Per sconfiggere Aerobrine Forse all'interno di questa mod Troveremo La parte mancante della gabbia O dell'esca Per attirarlo Non lo so Fatto sta che l'abbiamo inserita E quindi in questo episodio Ci andremo Ecco perché dovete lasciare subito Pollice in su Ora Quindi direi Di iniziare Iniziamo Dobbiamo partire Oh Che cazzo è successo? Lo so le statue Che cazzo è successo? Sono sparite le statue Ma a me mi è parso di sentire la porta Mario sei stato tu Aprirla Mi sarebbe tanto piaciuto Non sei stato tu Vieni qua Vieni Oh mio dio Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso Ah Sono caduto Sono caduto Aiuto Aiuto Sono caduto nel burrone Lo dovremmo chiudere Sì questo cavolo di burrone Aspettate un attimo Che arrivo sopra Ma che diavolo è successo? Cioè le statue hanno aperto la porta E si sono teletrasportate fuori Io le ho Io stavo guardando Cioè ragazzi Vedete perché sta serie Tipo fa flippare il cervello A mezzo a youtube Perché non si capisce Come succedono queste cose Che come cazzo è possibile? Sono sparite Le stavo guardando Sono sparite E sono ricomparse fuori È assurdo E sono nello stesso ordine Se non sbaglio Di come erano prima La rossa dietro a tutte Che le guarda Poi quella di ossidiana Quella bianca E davanti a tutte C'è quella di diamante Questo è È assurdo Cioè io non mi spiego Oh Notch Questo ti aiuterà Like Oh Che cazzo Oh Che ti ha dato Cos'è? È una pistola Mi ha dato una pistola No è mia Ha detto questo ti aiuterà Io sono rimasto un attimo interdetto Era una pistola Mi ha dato una pistola Si chiama La pistola del cacciatore E c'è scritto che Si utilizza per una grande giustizia La giustizia di Lion Nessuna delle mani del mondo Potrebbe essere più appropriato Questo oggetto Se non le mie La pistola del cacciatore Per una grande giustizia Grazie Nocce Nocce ci sta aiutando Decisamente ci vuole aiutare Io penso che lui sia come una specie di spettatore Nella nostra vicenda Ma ha visto che siccome Erobrine è veramente forte E accanito nei nostri confronti E sta anche giocando sporco Perché ci ricordiamo Che cerca di Allontanare voi alleati da me Allora ha deciso di intervenire Di farci dei doni Di regalarci degli oggetti Che possano servire A migliorare le nostre possibilità Comunque Direi ragazzi Mi raccomando Continuate a suggerirci I modi per andare avanti Perché abbiamo bisogno Di un altro suggerimento Adesso Venite un attimo Torniamo in casa Perché vi ricordate La imbuing station Che abbiamo lasciato qua sotto Bene Nello scorso episodio Vi avevo chiesto Quale potesse essere L'oggetto sbagliato Che avremmo dovuto sostituire Alcuni di voi hanno avuto Secondo me L'idea più intelligente del mondo Noi abbiamo utilizzato Questa Bioluminescence Abbiamo detto Che ci serve Per Attivare gli altari Che danno energia positiva Che addirittura Servono a contrastare L'energia di Robrine Ma quale oggetto Migliore di questo Ragazzi Quale migliore di questo Quale migliore Della Bioluminescence Potrebbe servire A purificare La mia soul Quindi Io ce la metto Withered soul Fai qualcosa Diventa qualcosa Non lo so Forse serve Diverso tempo Quindi io direi Lasciamola Qua per un po E controlleremo A fine dell'episodio Se è successo qualcosa Adesso abbiamo da fare Un'altra cosa però Venite assieme a me Dobbiamo andare Di nuovo nel land Ok ragazzi Voi vi chiederete A questo punto Perché siete andati Nel land Bene Vi ricordate Questa nuvola di gas Molto tremenda qua Abbiamo detto Che dentro potrebbe Conservare qualche segreto Ci potrebbe essere qualcosa Perché dalla distanza Si intravede Che c'è un buco Nella roccia Sotto Dentro la nuvola di gas Purtroppo nello scorso episodio Non siamo riusciti Ad entrarci dentro Ma in questo Vorrei provare E vorrei utilizzare Il respirator Questo è un oggetto appunto Della stessa mod dei gas E tra l'altro Faccio un rumore Di Darth Vader Quando ce l'ho addosso Comunque Ho intenzione Di provare A entrare Nella nuvola di gas Così Sperando che non mi succeda Qualcosa di grave Mario Stammi vicino E stai pronto Con le pozioni Io proverò ad entrarci Però Ho paura Perché comunque La nuvola È di gas elettrico Quindi Potrebbe proteggermi Magari dall'elettricità Oh State attenti State attenti eh Io sto provando Piano piano eh Mi sto avvicinando Per ora Non mi fa del danno Per ora Per ora Sembra che Ci posso entrare eh Ci posso entrare Ci posso entrare Allora Vado eh Allora vado State attenti voi State attenti anche voi State molto attenti Sto riusci Ecco Ho trovato C'è una cassa C'è una cassa Dentro c'è un oggetto Si chiama continuum Continuum orb Sto prendendo ora Del danno però Oh Cristo Cosa sta succedendo Cosa c'è Ehm Devo Aspettate Cosa c'è là sopra Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Sento delle esplosioni Ragazzi Sto arrivando Cosa sta succedendo Oh Cosa cavolo Scheletri Oh mio dio Ma sono Sono tanti State attenti State attenti Cavolo erano quelle esplosioni Cos'era successo Oh mio dio Ma non si può vivere In una situazione del genere Si passa da un pericolo All'altro Venite con me State tutti bene Dov'è Mario Mario Eccomi 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 ok Mamma mi ha fatto prendere paura Allora Il respiratore Ha funzionato Ha funzionato Non prendevo danno Dentro la nuvola elettrica Quindi perfetto Sono teso e sudato Ok Che io ho trovato Una cassa rossa Come quella che avevamo trovato Un po' di tempo fa Se vi ricorda Vi ricordate Ho fatto un rutto Ehm Dentro questa cassa rossa C'era un oggetto che si chiama continuum orb E c'è scritto abilità Ti regala un oggetto a caso Io aspetterei Aspetterei Sai cos'è Cos'è E' un oggetto che si trova Però è in un'altra dimensione Se non ricordo male In che dimensione Nell'ether Come cazzo fa ad esserci un oggetto dell'ether qua Se noi la mod dell'ether l'abbiamo appena messa E poi perchè quando io mi sono trovato L'assolto in difficoltà nella zona gassosa Qua sopra è successo il finimondo C'erano esplosioni di istruzione C'è forse qualcosa che vuole impedirci di andare nell'ether Probabile Visto che però potrebbe essere una conferma per noi Se qualcuno vuole impedirci di andare nell'ether Potrebbe essere la soluzione E tra l'altro mi sono scordato di dire ragazzi Che appena siamo entrati qui nel land Abbiamo notato che non ci sono più le statue degli impiccati Qua era pieno di statue di villager impiccati Alcuni bruciati Altri al rogo C'è una distruzione totale In questo momento non ce ne sono più E non ce ne è più neanche uno In tutto land non ce ne è neanche uno E' come se qualcuno li avesse presi O utilizzati per qualcosa E io ho paura che qualcuno qua si stia dando da fare Con le arti magiche della necromanzia Quelli erano tutti cadaveri Comunque usciamo dal land Perchè dobbiamo assolutamente adesso provare ad entrare nell'ether Il tempo stringe ragazzi Ogni minuto potrebbe essere quello determinante Per vincere o perdere questa situazione Un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi E tra l'altro occhio perchè qua ci sono degli zombie brutti e cattivi E che come vedete ho utilizzato Ho cambiato armi Guardate che belle spade che sto utilizzando in questo momento Queste sono le spade che ci ha dato Per un attimo mi sembrava che le statue si fossero mosse di nuovo Comunque queste sono le spade che ci ha dato Non mi ricordo dove cavolo le avevamo trovate Però comunque sono due spade che io avevo nell'inventario Sono le spade della vespa Se non ricordo male potrei sbagliare Ma mi pare che le avessimo trovate dentro l'alveare Quello che c'era nel nether Potrei sbagliare insieme al cappello della strega Non le avevo mai utilizzate fino ad ora Ma mi sono accorto che sono molto potenti Quindi ho deciso di utilizzarle come la nuova Matilda Queste spade diventeranno la nuova Matilda Che tra l'altro si ragazzi Matilda la mia spada preferita Mi è stata rubata Quando ci sono sparite tutte le cose Dallo scantinato in modo misterioso Ora direi di piazzare il portale per l'ether Qua in cima a questa bellissima collina Devo fare un portale come quello del nether Mi stavi dicendo Anna giusto? Tocca a me Allora stiamo per entrare nell'ether Il paradiso di Minecraft Un luogo degno per noi eroi Uso il secchio? Sì Vado Vai vai Oh ha funzionato Ha funzionato Stiamo per accedere alla dimensione paradisiaca Il luogo dove potrebbe nascondersi qualcosa di veramente utile Ma prima di entrare ho una domanda per voi iscritti Ragazzi che cosa devo fare del Continuum Orb? Do dobbiamo utilizzare o dobbiamo conservarlo per aspettare che magari Boh possa servire a qualcosa di meglio? Ma che cos'è sta musica? Dall'ether proviene una musica angelica Mario Senti Eh che bella cosa Ma aspettate un attimo Prima di entrare dobbiamo visitare Dobbiamo controllare l'in-wing station Perché io ho un buon presentimento che possa essere successo qualcosa Non l'abbiamo controllato Ragazzi è importante Lo so siete ansiosi di vedere l'ether Ma anche questa cosa è importante Io voglio la mia anima che sia purificata Non posso restare con la sensazione di avere qualcosa di maligno In un oggetto che mi appartiene intimamente Andiamo a vedere Venite Miglio l'artiglio Ermano 3000 Venite qua Siete pronti ad assistere alla meraviglia che uscirà dal tavolino dell'in-wing Eh Tanto probabilmente non succederà un cazzo Come la volta scorsa che siamo arrivati qua tutti convinti Ah ci sarà dentro Farà funzionare Non ci delude mai Abbiamo detto Poi siamo andati a vedere Dentro non c'era un cazzo Oh E invece stavolta ha funzionato Ha funzionato Sì Davvero Ha funzionato Ed è la Purified Soul È la mia anima Ma è cambiata È sempre una Natterstar Ma invece di chiamarsi Withered Soul Ora si chiama Purified Soul Ha funzionato Ed è tutta Tutta dorata Fighissimo Ok Perfetto Questa cosa potrebbe servirci tantissimo secondo me in futuro Potrebbe avere qualche È stato veramente difficile riuscire ad ottenerla E grazie ragazzi ai vostri suggerimenti Per ora che ce l'abbiamo Secondo me Proprio perché è stato così difficile Questo oggetto potrebbe servirci davvero Per fare qualcosa di molto molto importante Quindi venitemi appreso Correte però Ok ragazzi ho deciso di fare una cosa Come al solito so che molti di voi mi odieranno per questo Ma voi lo sapete Lion è un burlone in fondo e vi vuole tanto bene Quindi per vedere l'Ether dovrete aspettare il prossimo episodio Perché a me piace creare suspense Ragazzi e dobbiamo arrivare a 15.000 pollici in su per vedere il prossimo episodio Per vedere dentro l'Ether E per scoprire quello che ci nasconde Per questa volta è tutto Io vi auguro una buona giornata Da Stefano Mario ed Anna La 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 Out Che cazzo stavo a dire Adesso ci pensa Lion Con la sua mira Eccezionale Mamma mia sono Una be... Oh Ehi Quel bastardo Quell'unto schifo Aspetta aspetta Ci penso io Ci penso Ah Ah